Un'attesa lunga 46 anni. A Subiaco sta per riaprire il Teatro Cinema Narzio. L'inaugurazione e l'apertura al pubblico ci sarà sabato 12 di giugno a partire dalle 18. Situato nel cuore del centro urbano della città, il teatro riapre le porte con l'obiettivo di tornare ad essere motore culturale ed artistico dell'intera Valle della Niene. La prima licenza di apertura della struttura fu rilasciata nel lontano 1914. Nel 1975 poi arrivò la chiusura. Oggi con 170 posti a sedere, galleria, platea, camerini, cabina proiezioni, palco e locali interamente ristrutturati, il teatro riprende il suo posto nell'offerta culturale ed artistica del territorio. La sala principale sarà intitolata ad uno dei volti più noti del cinema italiano internazionale, vale a dire Gina Lollobrigida, originaria proprio di Subiaco e madrina del teatro. Presente all'avvio dei lavori nel 2019 sarà ospite d'onore anche per la giornata inaugurale del 12 di giugno. Nel corso dell'evento, oltre allo storico taglio del nastro, sabato saranno presentate le anteprime delle stagioni teatrali e cinematografiche 2021-2022. Sarà l'opera di Alessandro Baricco, Omero, Iliad e messa in scena da Massimo Vermuller e Anna Ferruzzo con musiche di Pino Cangialosi ad inaugurare la prima e storica stagione teatrale del Narzio, sabato 12 di giugno, con due spettacoli alle 20.30 e in replica alle 21.30. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di prenotazione per accedere all'interno del teatro per assistere agli spettacoli proposti. Per il sindaco di Subiaco, Francesco Pellice, per gli assessori comunali quello di sabato. Dunque sarà davvero un grande giorno. Il 12 giugno il teatro cinema Narzio riaprirà le proprie porte. Un traguardo storico per Subiaco, per tutto il territorio che attendiamo con grande emozione. Finalmente, dopo tanto lavoro, un sogno che si avvera.